Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Slekshift e oggi siamo qui per questo nuovo video, per mostrarvi il nostro clan quanto è efficiente. Prima di tutto non so se riuscivi a mettere il bioscreen del baule legendario, ho trovato dentro, eh volevi sapere, comunque adesso vi metterò il video, poi ment'altro, ho trovato dentro il baule, baule cosuli, baule del clan, la merda, poi tornei, non c'è un cazzo, e adesso vediamo un po', se qualche nostro amico ci accetta anche io, lui, è abbattibile. Vediamo un po' se ci accetta, se facciamo una figura di merda, comunque calcolate che c'ha 4169 diventa 4800 questa. Quindi, se perdiamo è normale, e accetta di Okan. Minchia, non riesci la madre. Siamo in due nel clan, quello bello. Adesso vediamo, intanto che i bambini fanno giù un casino, non so se riuscite a sentirmi. Ecco, comunque, ok. Dai, arriviamo a 40.000 perché voglio portarmi la principessa al Troa. Oppure, adesso facciamo così, è una bella sfida. Commetto loro che c'è sul programma. Oddio. Piange, non perché sembra fuori solamente quello. Piange, mica c'è il golem. Guarda che se c'è il golem. Sì, c'è il golem. C'è il golem. Sei sgrossiato, ma. Sfida è puttana. Ci godo. Per quello no, invece. Eh, volevi. C'è il domatore. C'è il domatore. Minchia, sono vicino. Vai fuori il domatore. Bravo. Ti asciuta gli scheletrini da quel lato lì. Putta gli scheletrini. Coglioni. Eh, volevi. E si incazza. Mori, bastardo. Mori, bastardo. Vieni. Scommettete che perdo? No, dico scommettete perché è ovvio. Minchia, la mia tua terza colpa è mirata. Dai. E te è casino. Dioca. Grande. Grande. F*** you. F*** you. Se lo ammazzo, a me non me ne scegono. Mi metto cazzo. Non si può essere così demente. Dioca. Non è così. Cioè. Vedete il futuro. Se non arrivavo a torre, guarda, mi mettevo a ridere. Dai, 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 volevo. Comunque adesso il mago non doveva passare, lì, dove. Se invece ci passa, è come? Non c'è un cazzo, devo far fare quella merda. Butta giù la torre, butto il figlio di puttana. Dioca. Tisana difesa. Non la ridi. Devi ridere quando ti faccio la madre. Bene, abbiamo ufficialmente perso. Abbiamo perso, guardate, ci avevano messo l'oro. Che non ho neanche. Muttiamolo perché non ci vuole di vedere gente che ride. Cioè, manco pensando. Che bello. Scommettiamo adesso che ha più di 4.000 trofei. Vediamo un po'. Andate 10 gemme, le compro, quindi. 4.000 trofei, vediamo. Non è possibile. Sono un veggente. Io, can, sono un veggente. 4.400. Se io vado in battaglia, mi trovo gente di 4.400 trofei. Non è che sia poi così equilibrato. Dioca. Se piange la fulmine. Non fa un cazzo. Mi può fregare di meno. Ah, è già un miracolo che ha regito. Anche tu? Dio. Per arrivare, vai poter anche puntare quella roba, eh. Non è che ricosti loro. Cioè, forse, non so. Dio. Tutto il frasto, lo faccio girare a forza del cazzo in culo. Bravo. E eccoci qui. Vediamo intanto la cura. Jackie. Le prime due partite li ho vinte. Non lo potete vedere. Tra cui lui aveva il gol, è un impressionante. Oddio. 3.500. Non lo aspettavo. Nient'altro. Il programma cascerà breve. Quindi se si stoppa la gestazione così a cazzo dei cani, non è colpa mia. Vediamo un po' se ci siamo a accettare l'amichevole. Così. O qualcos'altro da portare. Questo è con lui pareggio semplice. Una volta tanto che vorrei trovare a vincere. L'oglio giocchi, accetta. Poi. Avrei in mente di fare un fact time a breve. Quindi se volete fatemi domande. Eh, nient'altro. Aspetto le domande. La domanda più bella, cioè, vabbè che le metterò tutte. Però le domande migliori si hanno salutate. All'interno del video. Quindi, approfittatemi. Perché un saluto potrebbe essere una sponsorizzazione. Perché hai pochi iscritti. E Gesù Cristo non accetterà l'amichevole. Yeah, che bello. L'ultima battaglia. Va bene anche domande soft porn. E robe varie. Più sono trash e miglio è. Benissimo. Ho capito, c'è ricordi. I primi del figlio. Eh, volevo. Quella roba di non muore. Guardate, due miglia di danni. Non scommettete. Cazzava per capo, ho capito. E io non ci ho superati. Questo non è buono. Mi fa fuori la dieta da battenza. Mi fa un piacere. Non difendo neanche, perché tanto. Tanto ci arriva. Sapevo io che c'era il gol. Da quel primo al mondo. Chi è che non lo usa? Tutti lo usano. Se il primo al mondo cala le mutande in strada, lo fanno tutti. Quando è che fa più di 4 metri fai, non so che cosa stai a fare. Vai? Butta di cosa. Butta in niente. Arriva comunque, è inutile. Questo qua mi ribatte la situazione da così a così. Devo beccare il momento giusto e buttare il dono. Ma netto. Vai a dieta. Bravissimo. C'è un coglione. Buttare la lorda lì. Deve arrivare la torre. Succa. Abbiamo vinto. E con questa vittoria vi ringrazio da visione. Commentate, lasciate like, iscrivetevi. Se non avete ancora fatto. E ciao. Vediamo qua quanti trofei va. Bene. Nient'altro. Ciao a tutti. Buon porno. E buona pornata. Per una via serata. Ciao. Ricordate le domande fiere. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.